Adesso siamo in compagnia di Stefano Callegari, chef, e gli chef sono realmente, letteralmente, tra i protagonisti di Formaggi al Centro. Intanto, perché Stefano? Qual è il vostro ruolo in questa iniziativa? Sicuramente valorizzare il prodotto che stiamo promuovendo. Quindi c'è il pecorino toscano DOP, più o meno stagionato, c'è il pecorino romano DOP e poi c'è la mozzarella di bufala campana DOP. Senti, nell'utilizzo di questi ingredienti come materie prime per realizzare le tue ricette. Nell'utilizzarli qual è la differenza tra i tre? Perché tu sicuramente li avrai manipolati tutti e tre. Quindi quali sono le differenze proprio dal punto di vista tecnico? Guarda, sicuramente tutti e tre non li ho cucinati, ossia li ho addizionati a delle preparazioni precedenti. Però sono talmente differenti, specialmente la mozzarella di bufala, a rispetto in quanto è una pasta filata, è fresca, dentro presenta del latte. Quella ad esempio l'ho pensata nella sua purezza, ossia noi facciamo questo strip food che è un angolo di pizza bianca che facciamo con piatti di cucina regionale, piatti romani o anche di tutta Italia. Avendo questa forma a triangolo non fuoriescono i sughetti, diciamo così. E la mozzarella di bufala l'ho pensata in purezza, nel senso ne metto direttamente un pezzo dentro il mio panino e ci aggiungo dell'olio extravergine d'oliva nel quale ho soffritto aglio e peperoncino, quindi una sorta di aglio, olio e peperoncino leggerissimo che va quasi a tagliare il latte della mozzarella. E poi ci aggiungo del sale nero di cipro, un po' di peperoncino, un po' di prezzemolo e quindi la mangi e quella rimane quasi integra, mentre il pecorino toscano DOP, più stagionato, l'ho unito a dei pomodorini piccadilli precedentemente infornati con del timo, olio, sale e pepe, un po' di origano. Una volta raffreddati si sono un po' asciugati, però mantengono un po' del loro umore e ci faccio quasi un'insalata con questo pecorino e si sposa benissimo con la dolcezza che tira fuori il pomodoro dopo essere stato infornato, in quanto è un formaggio abbastanza sapido, però anche lui rimane freddo e croccante quasi, mentre il pecorino romano da sempre a Roma è quasi un condimento, un insaporitore, lo si usa sulla trippa, sulla matriciana, su tutti i piatti che va a dare questa grinta sapida al piatto. In questo caso ho scelto la zucca, la zucca viene infornata e poi finita in padella con dello scalogno e molto rosmarino e dopo ci aggiungo delle mandorle, quindi è tutta una base dolce e sopra grattato grosso del pecorino romano e dà la spinta un sabina un po' piccante. Sembra veramente di essere Alice, io nel Paese delle Meraviglie, con una descrizione così veramente che fa venire l'acquolina in bocca, quindi al centro non soltanto dei menù ma anche al centro del trappizzino questi formaggi e soprattutto questa iniziativa nel centro storico di Roma, centro storico di Roma in particolare è testaccio che ha proprio in sé una tradizione dello street food. Mi racconti qualcosa su questo, cioè i giovani come lo hanno avvicinato questo street food? Beh benissimo, prima di tutto per la velocità della fruizione, nel senso chi entra qua dopo 30 secondi è già servito, in quanto noi abbiamo sempre, questi sono angoli di pizza bianca che vengono serviti dopo essere stati scaldati, tornano croccanti e vengono farciti, però li scaldiamo di continuo e i piatti, non solo la trippa, la coda la vaccinara, il pollo coi peperoni, il pollo ragacciatore e quant'altro, sono tutti piatti che noi cuciniamo e teniamo al caldo, quindi quando si entra con 30 secondi si può mangiare un piatto che di solito magari ci sono volute 6 ore per cucinarlo come la coda e questo fa sì che i giovani che vanno magari non di fretta perché però perché hanno da fare ma perché proprio si divertono a stare così per strada oppure hanno molti impegni anche divertenti escono con questo panino triangolare e passeggiano per la città. Però siccome i protagonisti sono i formaggi, adesso io ti faccio la domandina quella un po' piccante visto che sono i tipi gastronomico, ma un trappizzino con questi tre ingredienti straordinari, golosi, creativi, costa di più? No assolutamente, noi ci teniamo sempre sulla nostra linea, in questo caso 3,50 euro del nostro trappizzino con qualunque cosa mettiamo dentro. E questo è fantastico e credo che i nostri videoascoltatori giovani perlomeno siano sicuramente molto attratti anche da questo elemento, uno street food veloce ma anche pratico dal punto di vista economico. Stefano chiudiamo con un elemento che ci riporta il formaggio al centro e quindi dal tuo punto di vista tu sei uno chef, ne abbiamo anche parlato col direttore però il tuo punto di vista mi interessa molto, come è cambiata questa mentalità perché io mi ricordo, vengo da una tradizione piemontese, da noi il formaggio era il fine pasto con una goccia di miele. Ecco come è cambiato nella coscienza e nell'uso consapevole di tutti noi e quindi come abbiamo riportato il formaggio al centro delle nostre tavole. Ma il formaggio ad esempio in Francia amano cominciare e chiudere il passo con il formaggio oggi è diciamo una proteina che può sostituire la carne in quanto non mangiamo più molta carne tutti i giorni e poi è cambiato anche secondo me la fruibilità ossia è più facile trovare formaggi ad esempio in Piemonte è facile trovare formaggio, magari a Roma un tempo si trovava solo il pecorino o qualcosina che veniva dall'Abruzzo, mentre oggi è facile trovare una toma, un formaggio dal peggio o anche i formaggi della Toscana, della Campania, laziali, quindi secondo me se ne utilizza di più e in maniera più disinvolta. E questo mi sembra anche molto bello e un'ultima cosa brevissima, so che non è proprio competenza tua e neanche del direttore, però una pillola se me la permetti, sul valore nutrizionale perché tu sai che oggi forse all'eccesso siamo attenti a tutto ciò che mangiamo quindi ecco un utilizzo di formaggio, cioè riportiamoli al centro sì ma adesso banalizzo quante volte a settimana perché insomma molto spesso i nutrizionisti lo dicono, ci vorrebbe un nutrizionista però lo chiedo a te, mi permetto di chiederlo a te. Ma seguendo un po' la piramide degli elementi diciamo che un giorno sì, un giorno no secondo me alternato con del pesce o della carne però può essere presente anche perché il formaggio c'è di capra, di pecora, di bufala, ne abbiamo differenti tipi abbiamo la ricotta, abbiamo quindi differenti densità sia di grasso che di caseina quindi è molto variegato molto variegato, quindi possiamo variare la nostra dieta soprattutto avere caratteristiche nutrizionali per ogni formaggio completamente differenti e soprattutto adatte alle esigenze di ognuno di noi grazie e buon trapizzino grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!